Con la stagione estiva iniziano gli incendi fra la vegetazione. Un vasto incendio infatti sta interessando un versante di Cavagrande di Cassibile. Le squadre dei soccorritori sono impegnate dalla tarda serata di ieri per spegnere l'incendio che ha divorato diversi ettari di macchia mediterranea. Ancora questa mattina i vigili del fuoco insieme alla forestale e ai volontari della protezione civile sono stati impegnati per spegnere le fiamme alimentate da forti raffiche di vento. È stato impiegato anche un elicottero che ha gettato acqua sulla vallata ancora in fiamme. E si parla ancora di un altro incendio di vaste proporzioni. Questa volta si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri nella zona di Contrada Spalla, nel territorio di Melilli. I pompieri hanno dovuto lottare anche con il vento che ha reso ancora più difficoltoso l'intervento dei soccorritori. Ad andare a fuoco sono state per lo più sterpaglie. E parlando proprio di incendi, si fa fronte comune tra gli enti contro i piromani nella campagna anti-incendi. Si è svolta infatti una riunione tra protezione civile e corpo forestale regionale alla presenza dei due dirigenti generali con i responsabili provinciali degli ispettori di Ragusa e Siracusa e delle associazioni di volontariato. È stato presentato il protocollo di intesa siglato lo scorso aprile tra i due enti per recentralizzare e unificare gli interventi in materia di prevenzione e spegnimento incendi. All'incontro anche il sindaco di Avola, Luca Cannata, che ha ringraziato quanti si stanno prodigando nella campagna anti-incendi e nella prevenzione. Il sindaco dice proprio per la firma del protocollo di intesa si trova l'avanguardia sul versante della prevenzione incendi ma chiaramente serve la collaborazione di tutti e ripeto ancora una volta abbiamo bisogno dei nostri cittadini per educare alla cultura della tutela del nostro ambiente, sensibilizzare giovani e meno giovani garantendo una capillare attività di comunicazione e prevenzione sul controllo del territorio, dice il sindaco di Avola, Luca Cannata. Intanto il centro operativo della forestale comunica che resterà attivo H24 fino al 15 ottobre con il supporto dei volontari e della protezione civile.